Klimt diceva sempre che le uniche cose che sono interessanti riguardo a lui sono le sue opere e come persona non si riteneva interessante. Io spero di essere interessante per le persone che mi amano. Grazie a tutti perché riesco ogni tanto a leggere le cose che vengono scritte e devo dire che sono lusingata, sono molto riconoscente insomma tutte le cose belle che mi vengono dedicati. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti